Prego la regia di far partire la scheda introduttiva dell'argomento del giorno. I sintomi principali del diabete di tipo 1 sono l'aumento del volume delle urine, la diminuzione del peso corporeo in maniera improvvisa e un aumento della sensazione della sete. Chi soffre di diabete di tipo 1 deve sottoporsi alla terapia con l'insulina per tutta la vita. L'obiettivo dell'insulina somministrata con iniezione è quello di rendere simile questa azione a quella dell'insulina prodotta dall'organismo. Non esistono rimedi definitivi per il diabete mellito tipo, ma di recente sono state sviluppate terapie innovative che rendono più facile al paziente la cura. Si tratta di rimedi più semplici da somministrare, molto utili se consideriamo che i pazienti affetti da diabete di tipo 1 sono spesso bambini e adolescenti. Per le iniezioni di insulina vengono spesso impiegate le siringhe usa e getta e a volte sono usate anche le apposite penne, molto pratiche perché contengono una dose di insulina in una cartuccia. Sono in vendita anche dei microinfusori, apparecchi con un motorino elettrico a batteria che permette di azionare una siringa che contiene insulina. E per parlare di diabete mellito di tipo 1 spazio alla tecnologia abbiamo come ospite il professor Giuseppe De Rosa, specialista in medicina interna e docente di medicina interna all'Università di Pavia. Buongiorno professore, bentornato a colazione in farmacia. Buongiorno a lei e a tutti i suoi web ascoltatori. Buongiorno, dunque ovviamente parliamo della tecnologia applicata anche alla cura del diabete mellito di tipo 1, ma come prima cosa le chiedo cosa comporta il diabete mellito di tipo 1, quali sono le complicanze che può portare questa patologia? Il diabete mellito di tipo 1 che fa chiaramente intravedere che esiste anche un tipo 2 di cui abbiamo già parlato. Il tipo 1 è sempre una patologia che riguarda il metabolismo dei carboidrati e non solo, caratterizzato da iperglicemia ed è a pannaggio come rischio tutti coloro che arrivano fino a circa 40 anni. Dopo i 40 anni, nel caso il paziente possa andare in conto a iperglicemia, parleremo di diabete mellito di tipo 2 e comporta essenzialmente l'assenza o la scarsissima produzione di insulina. Ecco, e quali sono i soggetti che sono più coinvolti da questa patologia? Decisamente, avendo specificato che tutti coloro che non hanno un complimento di circa il 40esimo anno, possono essere a rischio, è chiaro che sono soprattutto i bambini. Non è detto che solo tanti bambini vadano incontro eventualmente a questa patologia, scopriamo anche persone che a 30 anni si ritrovano improvvisamente a essere diabetici di tipo 1. Ed è l'eziopatogenesi, diciamo, ancora sconosciuta. Si pensa che possa esserci un problema immunitario alla base, altri pensano che ci sia un particolare antigene, un batterio, un virus, però di fatto la titiamo ancora per quanto riguarda l'eziopatogenesi. Di fatto è che la betacellula, l'unità proposta a produzione di insulina, quasi improvvisamente non produce più insulina, anzi viene distrutta e alla sostituzione del tessuto nobile, quello della betacellula, c'è il tessuto fibroso. Quindi alla base potrebbe essere, c'è anche un processo infiammatorio, forse infettivo, che fa sì che l'organo deputato alla produzione di insulina, cioè la pancreas, quindi la betacellula, non produce più insulina. L'assenza di insulina fa sì che il soggetto che viene colpito debba per forza di cosa fare una iniezione di insulina, quindi abbia bisogno di un apporto esogeno e esterno di insulina. Ecco, i valori di insulina per quanto riguarda che comportano poi ovviamente la diagnosi del diabete mellito di tipo 1, quali sono? I valori di glicemia? Sì, sì, esatto, scusi. I valori di glicemia, normalmente nel tipo 1 rispetto al tipo 2, il tipo 1 è abbastanza drammatico, perché può eventualmente il soggetto andare incontro al cosiddetto comacetocidosico, per cui si ha un importante valore di glicemia, di iperglicemia, parliamo anche di 600, 700, 800 mg di decilitro e quindi con la possibilità anche che il paziente sia in una fase di precoma, di stupore, di suppore o anche addirittura incontro al coma. Ed è soggetto magari giovane, la mamma si preoccupa, ci sono anche poi dei segni e sintomi che possono far sì che possa essere riconosciuto il paziente diabetico. Per esempio, una caratteristica è che il bambino non cresce, per esempio, cresce poco proprio perché c'è la mancanza di insulina, al tempo stesso il bambino beve tanto, beve tanta acqua e fa tanta pipì. Diciamo che rispetto a quello che mangia cresce anche poco e questo può essere già un segnale, un allarme per cui facendo una glicemia si è un valore molto alto, fino addirittura purtroppo all'esordio proprio di questa glicemia particolarmente alta che può portare anche al coma chetocidosico. Ecco, per quanto riguarda il diabete emellito di tipo 1, qual è la terapia esattamente? Semplicemente le iniezioni nel caso... La terapia è chiaramente la terapia insulinica, ne prescindere dalla terapia insulinica perché c'è la mancanza di insulina. Con il ripristino dell'apporto di insulina abbiamo che la glicemia, che l'ipaglicemia scende e si porta a valori di norma. Abbiamo poi dopo anche la ripresa della crescita del bambino, per esempio, non abbiamo più quei sintomi di arsura, quindi di sete, piuttosto che di poliuria, cioè quindi di fare tanta pipì, per esempio, e quindi gioco forte che l'apporto sia esogeno e sia appunto con insulina. Ecco, dal momento che il titolo della puntata di oggi ha a che vedere anche con la tecnologia, appunto, le chiedo in che modo la tecnologia può aiutarci nel diabete emellito di tipo 1? Diciamo che, in prima battuta, la tecnologia è già da qualche anno che ha preso piede nell'ambito della terapia, diciamo, sì che è più simplicita della terapia insulinica. Si accennava nella scheda introduttiva dell'uso delle penne. Un tempo c'erano le siringhe, anzi, a dire la verità, un tempo c'erano boccettini di insulina, dove l'infermiera deve essere particolarmente abile nell'aspirare insulina in base anche al tipo di insulina. Per intenderci, per il nostro pubblico, l'insulina può avere un'azione rapida, ma possono essere messi anche delle sostanze che ritardano l'azione dell'insulina. Questo è importante se, per esempio, dobbiamo coprire la notte, e allora faremo un'iniezione di un'insulina di un certo tipo che viene rilasciata meno velocemente rispetto, per esempio, all'insulina che si fa prima dei tasti, dove invece deve esserci un controllo dell'ipervicemia eventuale immediato. E quindi un tempo c'erano i boccettini. Poi si è iniziato con delle penne, queste altre erano delle penne che però non erano uso e getta, come adesso, ma erano delle penne proprio che si trovavano anche nel taschino, all'occorrenza chiaramente si usavano. Adesso invece abbiamo addirittura il materiale, diciamo, uso e getta, per cui alla fine, diciamo, del flacone che è all'interno della fiala, che è all'interno della penna, si può buttare, c'è la penna che è il flaconcino. E' chiaramente una terapia sottocutanea. E' chiaro che adesso, nell'ambito della terapia insulinica, c'è anche la possibilità, ed è particolarmente apprezzata nei giovani, che sono molto più tecnologici di quello che possono essere altre persone, il microinfusore. Che cos'è il microinfusore? Il microinfusore è un apparecchio che ha le dimissioni di circa un cellulare, forse ancora molto, ma molto più piccolo, con dei dispositivi che richiamano un po' le funzioni del cellulare, andare avanti, andare indietro e cambiare programmi, dove all'interno c'è una cartuccia che contiene insulina, un'insulina di solito pronta, rapida, quella che si userebbe, diciamo, prima dei pasti, dove a questo microinfusore è attaccato un cateterino, si fa un'applicazione anche qui, diciamo, sotto cutanea, e rimane questo cateterino con un microinfusore che si può portare alla cintola, in tasca, le donne, le ragazze possono portarlo anche, non so, voglio dire, dietro i jeans, piuttosto che anche il ragazzo, i jeans, insomma, comunque è molto... E' molto pratico. ...portabile, molto portabile, e al tempo stesso, diciamo, si può programmare l'infusione di insulina senza essere, diciamo, più schiavi, se così possiamo dire, assoggettati a quelle 3, 4, anche 5 iniezioni sotto cutanee, perché soltanto il cateterino viene cambiato ogni due giorni, e quindi di fatto una fonte di 4, 5 bucchi, diciamo, al giorno, quindi potrebbero essere 10 in due giorni, e qui ne abbiamo soltanto due. Ed è una tecnologia importante che mira a controllare ancora meglio la glicemia e quello che è la costanza del valore di glucosio ematico che dovrebbe essere presente in un soggetto normale, per esempio, e qui si riesce quindi a controllare in maniera forse più efficace rispetto alla classica terapia multiniettiva. Questo almeno per quanto riguarda il microfusore. È chiaro che il microfusore prevede anche dei controlli più ravvicinati dalla glicemia, ed ecco che allora anche il normale riflettometro, glucometro, cioè l'apparecchio che viene usato per controllare la glicemia capillare, ha subito adesso alcune modifiche, per cui si arriva addirittura ad avere la possibilità di poter, in primo luogo, sempre con un sensore che viene messo sotto cutaneo e che può essere tenuto addirittura 15 giorni, di poter avvicinare un altro apparecchietto molto simile al riflettometro e quindi di poter rilevare la glicemia senza bucarsi, perché di fatto qui abbiamo soltanto quel buco che viene fatto ogni 15 giorni per rilevare il glucosio. Qui il glucosio non è più capillare, ma è dello spazio interstiziale, ma per semplicità che il valore è molto simile. Oppure addirittura di poter valutare nell'arco del 24-48, anche una settimana, la glicemia con degli apparecchi che monitorano costantemente la glicemia. Mentre qui è a domanda, quello che vi spiegavo prima, cioè il fatto di poter avvicinare questo riflettometro e di poter chiaramente avere il valore del glucosio, il monitoraggio in continuo della glicemia permette, ancora una volta, sempre con un piccolo cateterino e sempre posizionato a livello sottocutaneo, di poter avere sempre là il valore di glicemia. Anche questa è una tecnologia importante che permette quindi di evidenziare se ci sono momenti di iperglicemia o anche di ipoglicemia durante la giornata, di poter quindi correggere con l'appropriata terapia insulinica queste evenienze. Ecco, quindi diciamo che evidentemente uno dei problemi dei pazienti, soprattutto a livello pratico, per monitorare il livello di glicemia nel proprio sangue, per effettuare le iniezioni di insulina, era proprio il fatto che dovesse essere un'attività costante durante la giornata, durante le settimane, durante i mesi, quindi durante tutta la vita del paziente affetto da diabete mellito di tipo 1, poi sicuramente il livello di glicemia va anche monitorato per il diabete di tipo 2 e questi attrezzi, queste nuove tecnologie permettono dunque di facilitare sicuramente la vita, di renderla più pratica, di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da diabete, corretto? Quindi questo è praticamente il fine ultimo di questi attrezzi tecnologici? La tecnologia permette in primo luogo di controllare meglio il diabete perché invece che dover avere soltanto un valore di glicemia nel giorno, noi possiamo chiaramente avere molti più valori e controllare effettivamente in maniera costante l'evoluzione della glicemia, ma al tempo stesso di praticità. Pensiamo per esempio a un ragazzo, un ragazzo che va a scuola, che diversamente da quello che può essere la normale attività prima di mangiare deve andare nel bagno oppure andrà nell'aula e qualche amichetto lo vedrà in quel modo che eventualmente magari non ha vergogna o si sente diverso da un certo punto di vista fare le iniezioni, invece col microinfusore è normale perché maneggia anche senza farsi vedere, maneggia senza problemi la macchinetta, il microinfusore può iniettarsi, quindi può programmare le iniezioni di insulina che deve fare. Quindi di fatto c'è la praticità, ma al tempo stesso la possibilità di poter controllare meglio i valori di glucosio nel sangue, perché attenzione, questo viene fatto per quale motivo? Se controllo meglio i valori di glucosio nel sangue, io evito un ritardo di molto le complicanze tenibili del diabete, mi accennava prima quali potevano essere le complicanze, le complicanze sono la retinopatia diabetica, quindi problemi di cuore, la nefropatia diabetica, problemi renali, la neuropatia, problemi della condizione nervosa, ma addirittura la macroangiopatia, cioè il rischio accelerato di aterosclerosi, quindi la possibilità di andare in conto per esempio all'infarto del neocardio, piuttosto che all'ictus ischemico, piuttosto che a problemi di vascolizzazione periferica, cioè agli arti inferiori. Quindi è chiaro che la tecnologia ci permette chiaramente di poter gestire al meglio i valori di glucosio e quindi rallentare o non far comparire le complicanze tenibili del diabete. Ecco, quindi sicuramente oltre al beneficio della praticità, anche il beneficio di monitorare nel miglior modo possibile le proprie condizioni di salute e quindi evitare ulteriori complicanze e in questo proprio ci viene incontro la tecnologia e va incontro ai pazienti affetti da diabete proprio la tecnologia. E questi apparecchi tecnologici quindi possono essere utilizzati, abbiamo visto, da tutti i pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1, ma c'è anche un ruolo particolare magari dei farmacisti, dei farmacisti stessi per informare anche i pazienti magari della possibilità di avere questo microinfusore per avere questi attrezzi che possono aiutarli anche nel monitoraggio della glicemia, il reflettometro. Sì, certamente il corso del reflettometro che viene anche dispensato da noi nei vari centri oppure anche se è eventualmente comprato in farmacia o dispensato in farmacia, è chiaro che vari tipi di reflettometri sono presenti e quindi anche il paziente, sempre sul consiglio dello specialista, andrà in farmacia per poter chiaramente avere le strisce reattive o eventualmente confrontarsi con il discorso del valore di glicemia capillare perché alcune farmacie hanno come servizio anche quello di rilevare la glicemia capillare davanti al paziente chiaramente e quindi in ogni caso di poter dare eventualmente un ulteriore consiglio soprattutto per pazienti che vogliono avere un ulteriore chiarimento rispetto a quello che è stato dato dal medico. Per quanto riguarda il discorso poi dell'insulina, anche in questo caso viene chiaramente poi dopo anche dispensata in farmacia e quindi il farmacista deve conoscere i tipi di insulina, sicuramente è uno dei riferimenti chiaramente di baluardi nell'ambito sia sintatico sia scientifico e il farmacista stesso per cui anche il paziente o per aver sentito essersi confrontato con lo specialista può chiaramente confrontarsi con il farmacista che deve lavorare in maniera congiunta con il medico e con lo specialista chiaramente per rendere ancora più fruibile l'informazione a parte del paziente. Per quanto riguarda invece certe tecnologie per il momento sono a pannaggio di centri specialistici lei pensi che non tutti i centri possono prescrivere questi o comunque in caso possono avere degli ambulatori dedicati alla tecnologia se così possiamo dire nel paziente diabetico. Però sicuramente l'informazione è importante anche perché sicuramente potrebbe essere che un paziente possa recarsi da farmacista e magari avere il microinfusore o avere i monitoraggi in continuo della glicemia. Ma infatti oltre a fare divulgazione sui temi di salute e benessere il nostro obiettivo è anche quello di dare consigli utili chiaramente ai nostri ascoltatori magari qualche ascoltatore affetto da diabete mellito di tipo 1 che ci sta ascoltando e pensiamo magari abbia sia venuto a conoscenza oggi per la prima volta di questi del microinfusore del riflettometro che certamente possono aiutarlo a vivere quella che è la sua patologia chiaramente in maniera più pratica e anche in maniera sicuramente migliore per la propria salute monitorare i livelli di glicemia nel sangue è molto importante come ha detto anche per prevenire future complicanze e chiaramente se possiamo avere degli aiuti da parte della tecnologia perché non averli. Quindi io chiaramente la ringrazio per averci spiegato quello che sono anche magari qualche anno fa potevano essere pensate come nuove frontiere della tecnologia oggi fortunatamente hanno un risvolto pratico sulla vita dei pazienti affetti in questo caso dal diabete mellito di tipo 1. Professor De Rosa la ringrazio molto per essere stato nostro ospite oggi a colazione in farmacia e a risentirci presto e buona giornata. Grazie che tanto a lei e ai suoi web ascoltatori.